Amici di Nokioteca sono veramente contento perché finalmente dopo parecchio tempo torniamo a parlare di un dispositivo a marchio Nokia. Sto parlando del 3310 che è uscito versione 2017 dopo quasi 17 anni dal suo predecessore, il mitico, ormai leggendario 3310. In questo video cercheremo di capire se vale la pena comprare un dispositivo del genere oggi nel 2017 per l'appunto e soprattutto se è un valido sostituto del ormai leggendario 3310. Cambiamo postazione alla telecamera e andiamo subito a scoprire di più questo 3310 2017. Ed eccolo qui il 3310 2017, il successore del ormai leggendario 3310 uscito veramente ormai quasi 17 anni fa. Purtroppo a noi ci è capitata la versione diciamo un po' meno carina dal punto di vista del colore, infatti lo si può avere oltre a questo grigino o bianco sporco, lo si può avere in rosso, blu, il classico blu del 3310 e il giallo. L'arancione e il giallo sono dei colori più accesi mentre il grigio e il blu sono dei colori diciamo opachi. Allora andiamo subito a vedere, diciamo parlare di caratteristiche tecniche è un po' superfluo nel senso che ovviamente è un feature phone quindi è pensato per un pubblico veramente poco esigente. Abbiamo come sistema operativo Nokia Series 30, diciamo quello che abbiamo ormai imparato a conoscere, il Series 30 Plus. Abbiamo come reti solo il supporto al 2G quindi non abbiamo neanche il 3G però abbiamo due SIM quindi molto comodo per chi magari ha bisogno di due SIM card. Tutte e due tra l'altro sono micro SIM, non abbiamo la nano SIM. Poche le funzionalità però poche ma buone, abbiamo una fotocamera da 2 megapixel con un flash LED, la qualità delle foto ovviamente non si può pretendere di avere chissà che qualità. Andiamo a vedere qualche scatto, come vedete ci chiede appunto se vogliamo andare a prendere le foto dalla memory card o dal telefono perché purtroppo la memoria del telefono è di soli 16 megabyte. Quindi io con 4 foto avevo già riempito la memoria. Dicevo foto, insomma quelle che possono essere fatte da una fotocamera da 2 megapixel, l'abbiamo vista anche sul computer, alla fine non sono neanche malaccio. Dai se abbiamo una buona luce veramente possiamo ottenere delle foto decenti. Ovviamente con scarsità di luce beh lasciamo perdere. Dicevo memoria da 16 megabyte ma è espandibile tramite micro SD, noi ne abbiamo messa una da 32 giga che è il massimo che si può avere. La batteria, abbiamo ovviamente la cover che si può estrarre, batteria sotto da 1200 mAh, tra l'altro hanno ottenuto il stesso codice della batteria del vecchio 3310 proprio per i nostalgici e veramente continuare un filone. Abbiamo la possibilità del display glance, il display è molto carino, non è assolutamente male. Abbiamo un display da 2,4 pollici, ha una risoluzione QVGA che ha un 240x320 pixel quindi veramente poca roba però sotto il sole non si comporta benissimo. Purtroppo non è super luminoso però diciamo che durante la quotidianità si legge molto bene. Abbiamo i classici tasti, i tasti fisici, il tasto menu dove entriamo direttamente in tutto quello che possiamo fare quindi la registro chiamate, la rubrica, la galleria che vi ho fatto vedere. Abbiamo poi messaggi, opera quindi possibilità comunque di navigare tramite il 2G. Abbiamo l'internet browser di opera con la quale si può navigare su internet ovviamente non a velocità pazzesche. Abbiamo anche lo store dove si possono andare a scaricare dei giochi principalmente per questo 3310 ma non aspettatevi chissà quali applicazioni. Abbiamo appunto poi per la zona delle applicazioni la possibilità di vedere i giochi e le applicazioni installate. Possibilità di utilizzarlo come lettore quindi se carichiamo la nostra musica sulla memory card e poi possiamo andare a riprodurre direttamente la musica dal nostro 3310. Il tempo che a noi però non funziona, la radio che è davvero molto comoda per tutti gli amanti, note, agenda, insomma le classiche applicazioni che si possono trovare su un telefono del genere. Grande ritorno ovviamente insieme al 3310 anche di Snake, quindi il mitico gioco del serpente torna in una versione completamente moderna fatta da Gameloft anche su questo dispositivo. Insomma si va a mangiare le mele e quant'altro. A me sinceramente piaceva, magari potevano tenere uno stile proprio più old, tanto per ricordarsi del vecchio Snake. Questa versione un po' moderna non mi fa impazzire però sicuramente è un bel colpo per tornare indietro. Abbiamo tre tasti rapidi, quindi a parte quello del menu abbiamo i preferiti della fotocamera che si possono andare a modificare all'interno delle impostazioni. Quindi fotocamera si va direttamente nell'app della fotocamera. Tra l'altro inquadro proprio gli unici accessori che troviamo all'interno della scatola, quindi delle cuffie di buona qualità con microfono per poterle utilizzare ovviamente per le chiamate. E il classico carica batteria, anche questo old style perché non ha un cavo che si può staccare, ma vecchio stile Nokia micro USB. Dicevo fotocamera, fotocamera non abbiamo nessun tipo di impostazione se non lo zoom, che anche qui dai non è malaccio, c'è anche una piccola rielaborazione alla fine della foto e poi si può andare a condividere tramite sms o tramite bluetooth. Non abbiamo ovviamente il wifi, abbiamo il bluetooth, vi dicevo che abbiamo il flash led per delle foto di sera e che si può utilizzare ovviamente anche come torcia immancabile in queste tipologie di telefoni. Eccolo qua, vi faccio vedere una foto con il flash. Insomma queste sono un po' le caratteristiche di questo 10310. Abbiamo possibilità della luminosità, abbiamo degli effetti immagini che insomma non è cosa da poco, quindi abbiamo comunque possibilità di andare a dare qualche effetto particolare alle nostre foto. E come avete visto abbiamo anche la possibilità della scena, quindi in caso di scene notturne abbiamo la possibilità di attivare questa modalità, ovviamente migliora di poco la qualità dell'immagine. Abbiamo comunque l'autoscatto, anche se non risulta comodissimo perché comunque dobbiamo eseguirci una foto in questo modo senza vedere dove andiamo a scattare. E poi lo scatto continuo per scattare più foto di seguito. Insomma poche funzionalità ma non stupide, carine, che magari ci si può non aspettare da un telefono del genere. Per il resto cosa ci si può fare? Telefonare. Telefonare è sicuramente la sua parte migliore. Le telefonate sono molto chiare, belle, nel senso di comode. Ha un'ottima durata la batteria, è sicuramente la parte più importante di questo 3310 e sicuramente chi lo compra lo fa per questo. È un ottimo secondo telefono o un telefono del lavoro dove per esempio non abbiamo bisogno di WhatsApp o altre particolari applicazioni ma soltanto appunto di telefonare. Dicevo l'autonomia è veramente fantastica perché arriviamo in stand by fino a 31 giorni, mentre in chiamate, quindi chiamate continue 22 ore. Quindi pensate veramente a trovare qualcuno che vi ascolti per 22 ore di fila. Il peso è fantastico perché è 79 grammi, quindi molto leggero, resistente. Noi non abbiamo fatto nessun drop test o cose strane ma ho visto su internet che ha tenuto testa al 3310. Insomma per chi va bene questo 3310? Beh, ripeto, per chi ha bisogno di un secondo telefono, per chi non necessita di applicazioni, di stare nel mondo ormai network, social e quant'altro, ma semplicemente di telefonare e magari avere la gestione di due sim business, di due sim lavorative. Magari abbiamo il nostro smartphone, abbiamo bisogno di qualcosa di più piccolo, più leggero, più comodo, veramente si inserisce dappertutto, si mette molto comodamente in tasca, in mano sta perfettamente, è piccolo e i tasti fisici obiettivamente io li trovo sempre molto più comodi dei quelli touch. Il costo è fantastico anche da questo punto di vista perché costa 59,90 euro, quindi veramente un prezzo molto abbordabile e poi pensiamolo anche magari per la nostra nonna o i nostri genitori un po' più in là con l'età. Insomma, alla fine questo 3310 secondo me ha senso anche nel 2017. Non siamo sempre troppo social, non siamo sempre troppo legati veramente a questo mondo di internet e quindi questo 3310 ci fa ritornare con i piedi per terra. Un saluto da Francesco Colonna per Nocchioteca.net Ciao a tutti!